È caduto nel vuoto da un'altezza di almeno 5 metri, così un giovane operaio di una ditta specializzata in bonifica e smantellamento di superficie in amianto è rimasto gravemente ferito. Il giovane, probabilmente di nazionalità straniera sui 30 anni, sarebbe caduto in seguito al cedimento della copertura sulla quale, fin dalle prime ore di questa mattina, avrebbe cominciato a lavorare. Lo schianta al suolo sarebbe stato tremendo direttamente sul pavimento all'interno di un locale di questo momento sfitto, di via Galilei, in località Sant'Agostino a Pistoia. Secondo alcuni testimoni che si trovavano nelle vicinanze, il fatto sarebbe avvenuto intorno alle 8.20, avrebbero udito un fragore forte e quindi l'impatto al suolo e i lamenti. Immediati sono giunti i soccorsi, i sanitari dell'automedica e un'ambulanza con i volontari della misericordia di Pistoia, i quali, constatata la gravità delle ferite riportate, hanno allertato l'elisoccorso Pegaso del 118, che ha trasportato il giovane all'ospedale Fiorentino di Careggi. Per procedere alle operazioni di soccorso, l'elicottero è stato fatto atterrare in un'area libera nei pressi del luogo dell'incidente. Caricato sulla barella all'interno dell'ambulanza, il giovane è stato accompagnato nei pressi del velivolo e trasferito quindi al suo interno. Da qui il trasferimento d'urgenza a Firenze. La Polizia Municipale ha provveduto a chiudere al traffico le strade limitrofe all'area dell'atterraggio via Galilei, via Galvani e via Ginepraia per almeno un'ora. Sul luogo dell'incidente è poi arrivato il personale dell'ASL per i rilievi di rito e le opportune verifiche.